Sono durate tre giorni le celebrazioni per i migranti in naufraghi in mare, celebrate dal 24 fino al 26 febbraio. Hanno aderito diversi forum territoriali di terzo settore che in questi giorni hanno organizzato eventi e celebrazioni per ricordare la strage di Kudro, dove hanno perso la vita 94 persone, di cui 35 minorenni si contiva di fatti a denunciare le violazioni dei diritti umani dei migranti. In tanti hanno risposto all'appello della rete 26 febbraio che, in occasione del primo anniversario del naufragio, ha indetto una serie di iniziative che si sono concluse alle 4 con una fiaccolata e una veglia sulla spiaggia di Steccato, per non dimenticare e reclamare verità e giustizia. E proprio verità e giustizia e basta morti in mare sono stati gli slogan scanditi durante tutto il corteo a Crotone, aperto da un grande striscione con la scritta mai più stragi di migranti nel Mediterraneo, che, partito da Piazza Pitagora, ha raggiunto il museo intitolato al filosofo e matematico.